Cosa dire di The Flash? Una visione che si attiene al di sotto della mediocrità. Niente di più, niente di meno. E devo anche aggiungere un dettaglio che ormai sta sfiorando il ridicolo, se non addirittura superato. Che il multiverso è sì un concetto dal quale sappiamo spaventosamente poco, però non farlo fare a produttori e realizzatori che hanno dovuto raccogliere i cocci per cercare di montare il montabile e far uscire un prodotto così scollegato, discontinuo e frammentario. È un tentativo palese di salvare un progetto lasciato al suo destino, quello di The Flash. È rimasto solo l'attore protagonista, selezionato ai tempi della Justice League come punto fermo della produzione. Il resto è stato completamente rimaneggiato, dalla stessa Justice League non più in azione e sacrificata all'utilizzo del multiverso per inserire riferimenti e strizzatine d'occhio a quanto c'è stato in passato nell'ambito di sì al cinema, partendo dal Michael Keaton di Tim Burton. Un'esperienza che sembrerebbe piacevole, soffermandoci sulla facciata, ma in realtà nasconde un tentativo disperato di salvare le sorti del film, con espedienti per rivoluzionare la trama di Flash, ma rimuovendo ogni sorta di gravitas e serietà al soggetto di base. Si comprende la voglia di esplorare maggiormente il profilo, le origini di Barry Allen, si individua un legame che ricorda il Peter Parker dell'MCU con Iron Man e qui il mentore è interpretato da due Batman di Ben Affleck e Keaton. Ha un suo senso preso a sé stante come elemento funzionante all'interno di un piatto di spaghetti servito in maniera spartana. E salviamo anche l'attore in riabilitazione, Ezra Miller, che sorprendentemente è colui che tiene in piedi la base scricchiolante di Andy Muschietti. Ma appunto ci si poggia nuovamente sul fanservice a buon mercato, sulle apparizioni speciali che fanno contenti i fan, che hanno seguito l'universo di sì al cinema, e sull'indigestione di CGI tra rendering di figure umane spiaccicate a schermo, di continuo e fondali digitali in ogni singola location, utilizzata per le sequenze più dinamiche. Un giocattolone, possiamo dire, sterile, montato per lasciare il testimone a James Gunn con la sua nuova direzione, un omaggio debole e sterile a ciò che aveva provato a presentare Snyder, con il suo progetto Justice League diviso in cinque film. Si pensa a preparare il grande campo da gioco del multiverso, con diverse interazioni, che non sto qui a specificare, ma facendo questo vai a relegarmi personaggi chiave che compaiono nel poster, come il Batman di Keaton o Supergirl, interpretata dalla promessa Sasha Calle, che sembrano però qui costantemente ridimensionati per lasciar spazio a figurine che si scontrano e all'effetto digitale poco rifinito in fase di post-produzione. Sì, ci guadagniamo in ritmo, in scorrevolezza, in carisma ben integrato di Ezra Miller, come stavo dicendo, che si presta benissimo anche in film ad alto budget, come interprete principale, e le sue doti sono note a tutti, ma questo non basta perché da Into the Spider-Verse e No Way Home poi, è come se ci fossimo imbattuti in un'enorme fase del multiverso che coinvolge, sia la Marvel che DC, quando in live action questo scenario non può essere realizzato pienamente in termini di inventiva. Solo l'animazione a questo punto può proporre una dinamica convincente e anche ricca di sfaccettature, una tecnica questa che può spingersi oltre e non mostrare limiti strutturali. Invece qui sembra una minestra preriscaldata, con uno schema già impostato per i fan dell'ultimo minuto. Se prima avevo detto che il ritmo è bilanciato, questo non significa che la storia sia altrettanto equilibrata. Si bruciano le tappe, si fa il resoconto sulla proprietà Warner dei supereroi che si hanno in scuderia e li mostriamo senza darci un minimo contegno. Fine dei giochi, però andiamo a perderci decisamente di credibilità e di stabilità. Bisogna per forza ripartire da Blue Beetle per inquadrare lo stato attuale dell'universo DC, senza più l'idea precedente di Extended Universe, perché tra Shazam 2 e Flash si rimpiange ormai un passato che non tornerà più, il che è abbastanza deprimente sulla carta che come trasposizione del concetto. E per favore, basta continuare a citare Ritorno al futuro, o come dicono nel film, una battuta RAF, come inserimento nerd forzato che sintetizza la natura del film che si sta proponendo. Dopo Endgame diventa qualcosa di reiterato, indigesto, estenuante da sopportare. La Marvel già è in alto mare con le prossime uscite, delineando una saga del multiverso che non ha appigli sicuri, non ha un nucleo centrale chiaro e comprensibile. E spero che Gunn prenda i resti di questa DC per farci il proprio parco titoli, scansonato con capitoli autoconclusivi, premi di personalità. Qui Antonio Cianci, il Raccata Film per voi, con la recensione di The Flash ha finito, fatemi sapere se siete rimasti soddisfatti da questo film sotto nei commenti, vi aspetto un saluto e un abbraccio carissimi seguaci del Raccata Film. Ciao, alla prossima!